Allora, te lo sei comprato l'aspirapolvero durante il Black Friday? Ciao a te, che stai guardando questo video dove voglio dare una notizia incredibile, assurda. Ok, 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 per dirti questa cosa ho girato tre video, li ho presi e li ho messi nel cestino. Però alla fine c'è arrivata un'idea, siamo qui. Bene, manca un anno al prossimo Black Friday 2023, lo trasformeremo nel Green Friday. Cosa vuol dire questo? All'interno di tutto il video ti diamo un assaggio di quella che è la reale bellezza di tutta questa cosa. Ve li ricordate i primi Black Friday? Con la paura di ammassarsi davanti ai negozi che dovevano svuotare il magazzino, fomentando la febbre del consumismo sfrenato. Che senso ha? Ma poi oggi, in Italia, è l'ennesimo innesto culturale di tristezza che funziona solo per economie che distruggono il pianeta basate sulla sovrapproduzione. Vogliamo sconti e promozioni? Bene! Non ti tocco il super mega giga sconto. Ma allora cambiamogli nome e cambiamogli anche il senso. Facciamo il Green Friday e premiamo chi ascolta, interagisce e produce un futuro desiderabile. La cosa che troviamo di utile nel Green Friday dell'anno prossimo è che condividendo questo video e che spargendo la voce all'interno semplicemente dei tuoi contatti stai aiutando a fare una cosa che giova sostanzialmente a tutto il lavoro che abbiamo mosso, tutte le persone coinvolte con la nostra attività e non solo, anche a te, anche a chi ti sta intorno, anche a che tipo di economia e che tipo di messaggio vogliamo mandare in quanto italiani. Se abbiamo fatto questa cosa è perché la nostra missione è che ciò diventi un modello di società più sensato, razionale, felice, italiano. Guardate che l'Italia, in tante sue caratteristiche, primeggia nel mondo e questo lo sappiamo tutti. Ma sappiamo anche perché allora stiamo copiando aree famose per la tristezza di chi ci vive? Perché continuiamo a svuotare paesi e città delle piccole e medie imprese? Questo sta impoverendo tutti, non c'è la stessa rigenerazione di capitale, ma questa è roba didattica. Arriviamo al dunque. Facciamo che troviamo l'uovo di colombo. Adesso ti do l'uovo di colombo. Per sei anni abbiamo razionalizzato ogni passaggio di ogni filiera dell'agroalimentare. Siamo partiti da lì per ovvi motivi. Quella è la fonte del benessere, quando è buona. E in pratica abbiamo creato un modello di consumo alimentare che riesce a farti avere a domicilio il fresco di giornata. Quindi raccolto maturo, coltivato genuinamente, al prezzo del supermercato, senza sprechi alimentari e garantito, soddisfatti o rimborsati. Addirittura non c'è nemmeno lo spreco di packaging. È impossibile evitare di cambiare il mondo. Le nostre azioni lo fanno. Siamo nell'era dell'economia comportamentale ed è giusto che adesso il mercato ascolti qualche buon italiano che ha qualcosa da dire. Cosa testimoniamo? Praticamente, lanciando questo messaggio e abbiamo un anno di tempo, possiamo fin da subito intanto gettare le basi e far vedere che questo messaggio si moltiplica. Facendo questo, daremo merito, daremo voce al messaggio che c'è dietro a questa questione che non vogliamo più sovrapproduzione di roba inutile venduta con i meccanismi di marketing che ti sostanzialmente distruggono il cervello fomentando la tristezza, ok? Voglio che diventi l'espressione dello scambio tra un buon cliente e una buona azienda. Tutto questo può sembrare un'idea. Non è un'idea. È una tabella di marcia, è un progetto. Funziona già da anni. Ci siamo accorti che le filiere agroalimentari, le filiere dell'alimentare sono da rivedere completamente perché la tecnologia non è al passo coi tempi perché tutti i processi, tutto il modo in cui viene venduta, tutto il modo in cui viene prodotta, tutto il modo in cui viene distribuita è vecchio, è sprecone. Crea dei disastri a livello ambientale e a livello di quello che ci stiamo mangiando, che sta perdendo. Ha perso fino al 75-80% di nutrienti. Non sa più di niente. Grazie, non c'è più niente. Si migliora, ma non alla velocità e al ritmo con cui è veramente possibile farlo. Un uovo di Colombo, un cambio di paradigma, qual è? È questo modello di consumo alimentare che proponiamo e che anche altri propongono, molto simile al nostro. Non siamo gli unici che fanno questo lavoro. Noi l'abbiamo semplicemente ingegnerizzato perché funzioni benissimo, perché sia sostenibile, perché sia replicabile. E quindi ti dovevo dire che è nato il mio punto green. La notizia incredibile era questa e dirai, wow, e cosa cambia? Dov'è l'entusiasmo? L'entusiasmo sta nel fatto che oggi, con un like, una condivisione, un gesto gratuito di tre secondi, puoi premiare questo video. Oggi puoi iniziare a programmare quest'anno, fatto di successi, fatto di divertimento, fatto di conquiste, dove andiamo ad affermare la vera italianità che è insita nel nostro amore per il territorio, per il paesaggio, per le persone che lo abitano, per il far bene un lavoro. Questo vi dovevamo dire, ma in un contesto dove la fiducia e il coraggio sono condivisi, dove sappiamo che faremo una festa e saremo carichi come delle molle per gioire delle cose buone. Io questo, lo vedete, lo desidero tantissimo. Il motivo è semplice. Questa io credo che sia la miglior risposta in assoluto tra tutte quelle provate in vita mia per poter dare una chiave di volta, un uovo di colombo a tutte quelle piccole cose che ci limitano nell'esperienza che viviamo, nella percezione che viviamo. Bisogna per forza partire dai nutrienti nel cibo, perché senza quelli non abbiamo neanche la possibilità di avere una percezione ricca, di avere accesso alle nostre facoltà fisiche e intellettive. Quindi, sulla base di questo, adesso passo la palla a te. Spero tanto di averti coinvolto, di averti spronato a fare un passo verso questo grande obiettivo per il quale siamo qui tutti i giorni a comunicarvi qualcosa e a tenervi aggiornati. Ciao!